Ottobre 2011, sono le 13.15, siamo a Piazza Poli, stiamo riprendendo questo paletto che hanno rotto, ancora un altro paletto che hanno rotto che è pericoloso, ho chiamato la protezione civile e ho segnalato il problema che c'è praticamente a Piazza Poli, dove c'è la macelleria, di cui vi ho segnalato anche qua, di far mettere una staccionata per non far andare i cani a fare i propri bisogni. Stiamo riprendendo, ripeto, stiamo a Piazza Poli e oggi è il 31 ottobre 2011, le 13.15 minuti. Con questo ho finito. Sono le 13.26, siamo ancora a Piazza Poli e stiamo riprendendo la segnalazione fatta della Gogevo, della Global Service del Comune, che è subito intervenuta. Come si può guardare, c'è il camion, stanno lavorando praticamente, dopo 10 minuti sono venuti. Come si può vedere, questo tutto a servizio del cittadino. Non sono demagogia, ma fatti. L'amministrazione Cuomo è un'amministrazione attenta, ripeto. Siamo attenti su tutto, come si può guardare. Ripeto, oggi è il 31 ottobre 2011, segnalato, chiamato la protezione civile, è venuta anche la società Global Service Gogevo, che lavora per il Comune. e ringraziamo sempre il sindaco Cuomo e tutta l'amministrazione. Siamo dalla parte dei cittadini e questo facciamo, siamo a servizio. Cioè ogni consigliere comunale, laddove vede un problema, opera a nome dell'amministrazione per risolverli e togliere i pericoli. Con questo ho finito.